è lui è lui Maurizio è meglio un Letta 2 o un Renzi 1? ma ci saranno tra l'altro che chiede il Movimento 5 Stelle? è il Parlamento che deve decidere Caseleggio cosa pensa di quello che sta accadendo a livello governativo la stacusetta staffetta Renzi Letta? penso che qualunque cosa che si vede a decidere i 5 Stelle cosa faranno? ma fatemi impazzare Caseleggio, non ci permette il rischio che la voce decida dov'è preferito il Renzi 1? oh raga ci potrebbero essere però ci potrebbero essere ma Gaetano grazie